Cari amici benvenuti in questo video dedicato a Doki Doki Switcheroo Si lo so che ci stiamo mettendo 400 anni a finire questa serie ma non vi preoccupate cercherò di essere più regolare Vi ricordo che in questo momento stiamo facendo la route del caro piccolo Natsuko che sto rivalutando tantissimo Perché si è vero è sempre lì che flerta e ci prova però in realtà è un ragazzo abbastanza carino e dolce Satori è sempre incavolato con l'universo per via di tutti i suoi problemi poveretto Yuri quasi non ci rivolge la parola e Matteo è sempre il solito Matteo anche se credo che cominci a nutrire delle fantasie omicide la cosa non mi piace Ho appena scritto una poesia per Natsuko perciò la facciamo leggere per primo a Natsuko Fammi vedere fammi vedere Ah qualcuno mi sembra entusiasta oggi anche Kiria fa di tutto per provarci Vi ricordo che nelle puntate precedenti questi due hanno letto insieme un fumetto di Natsuko e a un certo punto Mentre stavano recuperando della roba dall'armadietto Natsuko ha guardato sotto la gonna di Kiria risultando poi in un disastro perché sono caduti per terra Insomma quelle cose lì che succedono soltanto negli anime nei manga Ma certo perché adesso so che sai scrivere Sono molto felice che ti piace il mio stile Beh sai devo ammetterlo all'inizio ero un pochino geloso perché eri un po' troppo brava Però alla fine ho capito che è una cosa stupida di cui essere gelosi E il tuo talento naturale mi ha insegnato un po' di umiltà Sei molto dolce Natsu Ma credo che tu sia l'unico qui dentro a pensare che abbia talento Natsuko guarda la mia poesia e sorride Beh allora vuol dire che sono l'unico di questo club a capirci qualcosa Perché anche stavolta la tua scrittura mi sorprende davvero Beh direi che è un gran complimento da un professionista come te Un professionista? Sì certo Quest'ultima parte l'ha appena visbigliata Ti piacciono davvero le mie poesie vero Kiria? Mi stupisce un po' questa domanda Di solito è così arrogante adesso sembra essere completamente insicuro invece Ma certo che mi piacciono E perché? Per esempio lo stile di scrittura di Yuri è molto più maturo del mio E Satori scrive con un sacco di sentimenti E Matteo Solo Dio sa di cosa parlano le sue poesie Ma insomma sono comunque interessanti Che cosa ci trovi di bello nelle mie poesie? Natsu E cosa ci trovi di bello in me? Ma piccino perché così? Sì la sua voce sta un po' tremando adesso Perché sei l'unico che mi prende sul serio? Non soltanto per quello che scrivo ma per tutto quello che mi riguarda Tutti quanti qui mi ridono dietro Come per il fatto che mi piacciono i fumetti Oppure mi ridono dietro per come mia madre mi fa tenere i capelli Oppure perché ho un nome da ragazza Ha i capelli così li fa tenere sua madre capisco No non hai un nome da ragazza Dai alla fine ci può stare Per non parlare del fatto che poi mi ridono dietro perché sono piccolo E odio esserlo Nessuno si rende conto che per me è tutto difficile E poi un bel giorno compari tu E tu sei sempre stata così gentile con me Perché dovresti... Natsuco si ferma Io guardo in basso Hai pugni serrati Non mi ero mai reso conto di quanto la sua esperienza personale Influenzasse anche la sua scrittura Questo è un po' per tutti gli scrittori Dai tranquillo Altrimenti farai a pezzi la tua poesia Gli tolgo la poesia dalle mani e la metto sul banco E comincio a lisciare il foglio Kiria Lascia stare Cosa? Non essere così gentile con me Se lo stai facendo soltanto perché... Perché ti dispiace per me insomma non ne vale la pena Natsu non è così Mi fa piacere essere gentile con te perché sei tu E mi piaci così come sei Mi piacciono le tue poesie E mi piace il tuo stile Guarda È vero Quando ho letto la prima volta quello che hai scritto Non ci avevo capito niente Però adesso che ti conosco capisco di più Non sei soltanto un dilettante E mi dispiace aver fatto parte del gruppo di quelli che ti ha fatto dubitare di te stesso Ora capisco tante cose Ci sono molte più cose belle che ti riguardano di quelle che uno può vedere a occhio nudo Mi piace tutto di te Oh ma questa dichiarazione di Kiria così all'improvviso non me l'aspettavo Mi piacciono i tuoi capelli e anche il tuo nome Ok non sarai il più alto qui dentro Ma hai molte più qualità positive di tutti gli altri combinati insieme Me inclusa Natsuko abbassa la testa e rilascia un po' i pugni È difficile per lui accettare un complimento Ma alla fine mi guarda negli occhi Questa poesia l'ho scritta per te Ma anche così voglio dire se non ti piace me lo dici ok? Sì sincera e basta Ma certo Perché me in un mondo pieno di bellezza tu trovi gioia guardando in basso Potesti guardare un albero alto Ma perché invece guardi me? Adesso dimmelo se credi che mi sbagli Ma il silenzio è una canzone piacevole da ascoltare Cosa c'è di sbagliato nella tua testa? Per preferire piuttosto la mia voce? Potesti camminare a testa alta Con la fronte in bella vista Come a toccare il cielo Ma il paradiso quasi non ti vede perché tu sei seduta per terra con me Io non sarò perfetto Ma sono comunque un tipo tosto Anche se questo magari non si nota E la mia pazienza a volte è quello che è Ma tu mi rispetti comunque Mi piace scrivere in modo intelligente Trovare delle rime divertenti E mi fai sentire il mio agio con il mio stile Perché le mie poesie ti fanno sorridere Adesso la mia vita è più divertente Perché tu credi in me Questa poesia la tirata fuori apposta per noi eh? Mmm eh Ve l'avevo detto che questa ship stava andando bene Secondo me Natsuko qui è l'unico stanno di mente Ma anche Natsuki infatti sto cominciando a pensare Che sia la mia Doki preferita Natsuki Ma di questo parleremo Allora che ne pensi? È così dolce Natsuko Davvero non mi aspettavo che tu mi scrivessi una cosa del genere È piena di emozioni Eh sì beh voglio dire è quello il punto della scrittura no? Esprimere delle cose che normalmente non diresti Giusto A volte me lo scordo Grazie per avermelo ricordato Beh io sono un professionista abbiamo detto no? Però non sembra tanto fiducioso in se stesso questa volta Eh però sai devi ricordarti una cosa Solo perché io sono un macio Non vuol dire che non abbia sentimenti ecco E quando tu sei gentile con me Io voglio dire per me è importante Mi fa piacere Alla fine esito un po' a ridargli la poesia Natsu la posso La posso tenere? Lui mi guarda con gli occhi pieni di emozione Davvero la vuoi tenere? Mi tengo la poesia stretta al cuore Mi piacerebbe Ah ok ma certo Dopotutto l'ho scritta per te Sono molto felice che ti sia piaciuta Natsuko è contento dai E io torno a sedere e mi metto la poesia nello zaino Ho il cuore pieno di gioia per aver fatto Natsuko così felice Eh adesso andiamo da Satori No Satori piccinino mi sta ancora simpatico Mmm è carina credo Oh andiamo Lo capisco che non ti è piaciuta Beh chi se ne frega di quello che penso io La cosa importante è quello che ne pensa Natsuko Beh senti questa poesia non l'ho scritta per nessuno in particolare eh È stata ispirata Natsuko certo Ma non era sai Non era scritta per lui Sì come vuoi non importa È quello che volevamo entrambi no Finché tu sei felice E tu sei felice no in questo club Voglio dire Sì ma E allora è tutto a posto per me Satori ma tutto bene Eh sì sì certo Eh scusami se prima mi sono messo a urlare Eh che oggi sono un po' lunatico Ho dimenticato le mie pasticche Non ti preoccupare per me comunque Starò bene Sicuro? Sì sì tutto bene Non penso di aver dormito molto stanotte Perciò sono un po' stanco Allora le pasticche forse le ha prese Ok ok Ma per favore se hai bisogno di qualcosa tu me lo dici vero? Sono qui per te davvero Ok non ti preoccupare troppo Adesso vai a divertirti con chiunque tu voglia Ok? Ok se insisti Ok insisto Satori si gira e prende il suo zaino Ah oggi vado a casa presto eh Perché? No vabbè dia a Matteo che non stavo troppo bene Vabbè ci si vede quando ci si vede eh Satori? Prima che possa dire qualcos'altro Satori prende e va via Ehm vabbè Borbottando qualcosa fra stesse E io lo guardo andare via Con la mia poesia tutta spiegazzata Ancora in mano E non mi ha fatto leggere quello che ha scritto lui Yuri oggi mi parli caro? Mi avvicino a Yuri ma non sembra entusiasta Per la mia presenza Così tanto Vabbè hanno conversato Ma quanto pare questa conversazione L'avevamo già vista Matteo? Vuoi dirmi qualcosa anche tu? Skip 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 No Chi le ha detto di no? Non è proprio la prima cosa che mi passa per la testa al momento Vabbè Pensaci Fammi sapere che cosa ne pensi Comunque si adesso guardiamo la poesia di oggi E do a Matteo la poesia che tengo in mano Ah Sempre con lo stile di Natsuko vedo eh Anche oggi Ora comincio a capire qual è la prima cosa che ti passa per la testa No Veramente io Oh non cercare di negarlo È piuttosto ovvio Passi tutto il giorno con lui dentro il club Fai finta che ti piacciono i manga che piacciono a lui Pensi che comincerebbe a odiarti se tu non lo secondassi in tutto e per tutto? Che stai dicendo? Non è il tipo di persona che odia la gente perché non gli dà quello che vuole Voglio dire Sì ok Un po' assertivo lo è Ma non è egoista Ave dovuto capirlo che qualcuno che passa così tanto tempo con lui L'avrebbe difeso alla prima occasione Va bene capisco T'ho soltanto avvisato Natsuko può essere molto imprevedibile Nemmeno lui sa quello che vuole Voglio dire Ha soltanto 18 anni È il più giovane qui dentro dopo tutto In che senso scusami siamo in una scuola superiore Dovrebbero avere al massimo 18-19 anni le persone no? Ovviamente è troppo immaturo per sapere come gestire i suoi sentimenti Quello che sto dicendo è Se qualcosa di brutto dovesse capitare Potrebbe danneggiare tutto il club E io so che tu non vuoi che succeda Forse dovresti preoccuparti un po' meno di Natsuko Un po' di più di Satori Visto che è sparito non te ne sei manco accorto Ti sei accorto che qualcosa non va in lui vero? Ah certo L'altro ragazzo importante della tua vita Mi sa che lui ti sta a cuore più di quanto pensassi Matteo ma la smettiamo di psicanalizzarmi l'anima? Ma comprensibile La tua storia con lui È quello che vi tiene attaccati È una cosa importante La storia Definisce chi siamo E le relazioni che abbiamo Matteo mi guarda in un modo un po' incuriosito La storia con qualcuno Definisce ciò che le persone vedono in te E come tu vedi loro Io non ho idea di che cosa stia parlando Io non so di che stia parlando quest'uomo eh Però mi fa sentire a disagio Senti dimmi semplicemente quello che sai A dire la verità non mi ha detto niente Sui suoi comportamenti strani Ancora ho la mia teoria originale a riguardo Comunque sia Non è il momento di parlarne Immagino che Matteo pensi che Satori sia incavolato Perché chi ha altro interessi Cosa vera Comunque sia Adesso ti farò vedere la mia poesia D'accordo? Ma vai? Va bene? La storia dell'eremita ignorante Che era felice finché viveva nel suo piccolo angolo di paradiso Poi ha scoperto che c'era un mondo fuori E magicamente ha capito di essere ignorante Di voler vedere cosa c'era al di là del mondo E questa è una metafora per parlare ovviamente di Matteo E della sua pefania per aver scoperto Ah oh mio dio sono all'interno di un gioco Non sono più felice Voglio vedere cosa c'era di fuori Perché ho capito che c'è un fuori E io guardo Matteo un po' sconcertata E qui arriva la conversazione sulla poesia Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere Tutte cose che abbiamo già visto in precedenza Perfetto siamo arrivati al punto In cui dobbiamo scegliere con chi passare il fine settimana Per fare eventi legati al festival E ovviamente scegliamo Natsuko senza neanche pensarci Un weekend con un ragazzo dolce e carino E sì assolutamente sì Non ho neanche messo in discussione la cosa Non ho mai menzionato gli altri E adesso è il momento di scambiarsi i nomi di telefono E di vedere Satori che fa le sue dichiarazioni Prima riguardo le malattie Poi più tardi riguardo i sentimenti È soltanto in questo momento che Kiria scopre tante magiche cose E scopre anche qualcosa in più sulla vita di Natsuko Per esempio il fatto che sua madre non vuole ragazze a casa E qui stavano quasi per baciarsi Però Kiria ha tipo acceso il forno con dentro una presina Roba del genere Quindi niente bacio Anche qui stavano quasi per baciarsi Ma poi è arrivato Satori a fare dichiarazioni d'amore a Kiria E questo è il momento in cui però la ship finisce Perché posso dirgli ti amo come un fratello Posso dirgli ti amo Facciamo una cosa Facciamo che salviamo in questo momento E non andiamo avanti Perché altrimenti poi la giornata va avanti In un modo che non apprezzo troppo eh Tanto la scena in cui Kiria e Lucy abbraccio L'abbiamo già vista Quindi possiamo anche interromperci qui credo Facciamo che adesso si va al menù di partenza E si comincia un nuovo salvataggio E stavolta facciamo invece la run di Yuri Che è tutta completamente da scoprire Non soltanto per quanto riguarda le cazzine con Yuri Ma anche per quanto riguarda il fine settimana passato con lui Mi sa che in questo caso Natsuko ce lo perderemo completamente di vista Perché te Natsuko e Yuri non corre proprio buonissimo sangue Ma quanto chiacchiano questi ragazzi Incredibile Ve lo confesso La prima volta che ho giocato a Doki Doki L'Iteatro Club E la mia prima cotta è stata per Yuri Poi mi sono pesa una cotta anche per Satori Satori o Sayori che dir si voglia Adesso invece direi che la migliore e migliore è Natsuki Natsuko Vabbè quella personalità insomma Oh è il momento di scrivere una poesia D'accordo andiamo di depressione Anzi non troppa depressione Andiamo di cose strane 19 parole per Yuri Una per Satori Vabbè spero che questa cosa non dia fastidio a Yuri Adesso siamo quasi al punto in cui dobbiamo leggere le poesie Ma prima la nostra Kiria è un po' incuriosita da Yuri Ma allo stesso tempo mi dispiace distrarlo dalle sue letture Do un'occhiata alla copertina del suo libro Sembra lo stesso libro che ha dato prima a me E sembra essere alle primissime pagine Oh cavolo Ha visto che lo stavo fissando Mi guarda ancora e i nostri occhi si incontano per alcuni secondi Mi sorride Ciao Oh scusami Ero un po' distratta Borbotto qualche cosa e siamo un po' tutte e due a disagio Oh nessun problema Ero un po' concentrato Non mi sarei accorto di niente È che stavo giusto rileggendo un po' di questo libro È quello che mi ha dato prima no? Esattamente Mi sto rinfescando la memoria riguardando le prime pagine E una volta che lo leggo è impossibile metterlo giù È una storia veramente molto coinvolgente Ah sì È un libro dell'horror? Esatto Bene di che parla? Beh Yuri chiude il libro e lo gira guardando il retro Si chiama Wendigo Soul Ci sono delle zanne rosse incise sul davanti della copertina Volevo soltanto assicurarmi di non spoilerarti qualcosa Praticamente parla di questo gruppo di teenagers nel vecchio West Una storia dell'orrore ambientata nel vecchio West Ma è cosa strana eh Sì anche io pensavo che fosse interessante Senti questi protagonisti sono i figli di alcuni mandreani locali E le loro vite sono abbastanza difficili perché cercano di sopravvivere in qualche modo Ma le cose diventano ancora più strane quando all'improvviso Della gente delle città vicine comincia a sparire E anche il bestiame viene in qualche modo Sbranato di notte da qualche strana creatura feroce E man mano che la storia va avanti L'amicizia fra i protagonisti comincia a dissolversi Perché ci sono sempre più problemi di fiducia E la situazione inizia a peggiorare drasticamente Quando qualcuno inizia a sospettare Che tutti questi omicidi e tutte queste sparizioni Siano correlate a una ragazza misteriosa che vive da sola nei boschi Ma dai sembra figo in realtà Però non mi sembra così spaventoso Beh forse te l'ho spiegato male io allora Comunque sai se non ti piace questo genere Comunque sia No no mi piace dai Mi piacciono i videogiochi dell'horror Sicuramente un libro spaventoso potrebbe catturare la mia attenzione Lieto di sentirlo Per mantenermi attento ci vuole qualcosa Con un bel po' di brividi lungo la schiena Continuo a dimenticarmi che a Yuri piacciono le cose macabre E' così silenzioso, gentile Con questo aspetto da gentiluomo Ma la sua mente non è per niente come il suo aspetto Sai le storie come questa sono una sfida Per guardare la vita in una prospettiva completamente diversa Quando accadono delle cose orribili Le persone sono rapide a puntare il dito Sulle persone un pochino diverse dalle altre E considerarle dei cattivi Facile temere ciò che non si conosce dopo tutto E poi all'improvviso quando pensavi di essere dalla parte del protagonista Ti rendi conto che il tuo presupposto eroe in realtà è molto più egoista E pieno di difetti e ignorante di quello che invece pensavi che fosse il cattivo Ah, una di quelle storie che ti fa capire che tutto sommato il cattivo Uno scopo nella vita ce l'aveva Esattamente È quel tipo di ambiguità morale che permette veramente al lettore di immedesimarsi E di cercare di capire il proprio punto di vista attraverso la lettura Identificarsi di più nel cattivo piuttosto che nell'eroe Sforza un po' la mente del lettore E gli fa esplorare delle nuove prospettive Rispetto a quello che farebbe normalmente E ti fa anche mettere in discussione l'intero concetto di bene e di male Caspita ti piace proprio questa roba eh Yuri mi guarda un po' arrossendo E sorride Sì Kiria Penso che sia il caso di avvertirti che io ho questo problema Quando lascio che la lettura o la scrittura mi riempiano i pensieri Io tendo a essere un pochino troppo zelante Perciò scusami se comincio a sembrarti strano o inizio a parlare troppo No no figurati Mi fa soltanto piacere vedere quanto ti appassiona la lettura Questo è un club di letteratura dopo tutto Posso stare qui ad ascoltarti parlare tutto il giorno In effetti aveva due copie dello stesso libro Era ovvio quello che voleva Alla fine mi infilo dentro il mio zaino e tiro fuori un grossissimo libro Potremmo cominciare a leggere insieme allora no? Oh eh guarda che non devi farlo per forza eh Non devi sentirti obbligata Non voglio sentire come se ti stessi forzando a farlo Ma figurati Ma certo che voglio leggere anch'io In effetti Perché non leggiamo insieme? Posso sedermi qui con te? Mi metto a sedere accanto a lui Eh ok se lo dici tu allora Improvvisamente sembra molto più rilassato Non sembra più preoccupato Vabbè certo vieni Mi sposterei per farti spazio ma le serie sono attaccate al banco Ah nessun problema Apprezzo il pensiero Yuri sorride Non sono abituato a leggere in compagnia Sarà un'esperienza molto interessante e deliziosa Beh sembra emozionato l'idea di cominciare a leggere insieme Beh sai anche per me non è una cosa a cui sono abituata Perciò fammi sapere se ti disteggo troppo d'accordo? Sono sicuro che la tua presenza non sarà un problema Apro il libro e inizio dal prologo E ora capisco che cosa intendeva Yuri con il leggere in compagnia È un po' come se riuscisse a sentire la sua presenza dietro la spalla mentre leggo È un po' fastidioso Ma allo stesso tempo mi rassicura perché so che è lui Improvvisamente vedo Yuri con la coda dell'occhio Oh cavolo Ecco perché sento la sua presenza sopra la mia spalla È tipo sopra la mia spalla E non sta leggendo dal suo libro Sta leggendo dal mio Oh scusami Mi sa che sono io quello che ti distrae È solo che non riesco a stare concentrato sul mio libro Ah ho capito cosa vuole dire eh No no non ti preoccupare Ho un'idea Spingo il banco verso Yuri E spingo il libro tra noi due Così dovrebbe funzionare no? Un'ottima soluzione direi Yuri chiude la sua coppia e la mette nello zaino E si avvicina a me Ed entrambi ci pieghiamo sul libro Ma mi rendo conto che questo ragazzone è veramente troppo grosso Infatti non riesco a vedere troppo bene Alle spalle larghissime che mi bloccano la visuale Mmm mi sa che mi scivolerà un po' eh Perciò faccio scivolare una gamba sotto di me E mi metto un po' seduta sulle mie ginocchia Così mi piego e cerco di riposare Il resto del corpo sopra un gomito Adesso riesco a leggere qualcosa Però devo cercare di non piegarmi ancora di più Oppure il mio petto potrebbe essere troppo premuto Contro il suo braccio Oh mamma mia Chi idea di cosa ti preoccupi Sicura che sei comoda in quella posizione? Sì sì tranquillo Non ti dispiace tenerlo tu il libro vero? No no nessun problema Oh ciao Yuri Yuri apre il libro E io faccio un po' così con gli occhi È difficile leggere perché è veramente piccolo 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 il testo Mi piego ancora un po' Ma c'è ancora dello spazio tra il braccio di Yuri e le mie tetes Ma adesso siamo un pochino più vicini di prima ecco E la cosa mi sta distraendo Il fatto è che c'è Yuri nel mio cono visivo E riesco quasi a sentire il suo calore Parole prese un po' dal camp buddy Ma vabbè Sei pronta? Per farmi girare pagina? Ah scusami No non sapevo che avessimo iniziato a leggere Guardo Yuri I nostri occhi si incontrano così Non riuscirò mai a mantenere il passo con lui Non sono molto veloce a leggere Ah nessun problema Sicuramente questo fonte microscopico non ti aiuta Perciò non ti preoccupare sarò paziente se ti serve più tempo Fammi soltanto sapere quando sei pronta Ok? Grazie lo apprezzo molto E continuiamo a leggere A quel punto Yuri non mi chiede neanche se sono pronta a girare pagina Mi lascia la pagina aperta quel tanto che mi basta per poterla leggere E poi gira sempre lui E continuiamo il primo capitolo in silenzio Yuri Cosa vuol dire questa parola? Indico una parola che non riconosco perché sta venendo usata in modo metaforico Ah effulgent Significa qualcosa che brilla tanto o irradia Ah ok beh c'ha senso La fidanzata del protagonista è una ragazza tutta allegra e tenerella quindi alla fine ha senso Esatto E' un bel personaggetto Ma personalmente preferisco la natura stoica del misterioso personaggio femminile che vive nel bosco Quella di prima che è considerata da cattiva Ma tu guarda Sono davvero così trasparente? Sì come un fantasma Yuri arrossisce Beh se posso essere completamente sincero La ragazza selvaggia che vive nei boschi mi ricorda un po' te Ah ma davvero? Sì è intelligente Avventurosa Spontanea E' un sarcasmo che io trovo assolutamente affascinante Capisco Comincio a credere che l'ultima cosa che ha detto non sia riferita al personaggio ma a qualcun altro tipo a me E divento rossa pure io Non è un segreto che mi piaccia flertare Ma quando uno come Yuri flerta di rimando beh è quasi più di quello che riesco a gestire Oh Kiria? Guardo in curiosità verso Yuri Improvvisamente sembra in imbarazzo Che gli succede? Ah i miei occhi si allargano quando vedo che sposta il braccio un pochino Ah le tette contro il braccio capisco Guardo giù Mi sa che mi sono rilassata un po' troppo Perché sono proprio completamente sfaparanzata sul suo braccio come se fosse un cuscino Con le tette contro il braccio di Yuri E ovviamente Kiria fa un balzo indietro e torna a posto Eh scusa non ero attento Eh scusa che eh no per favore non preoccuparti Tutto a posto Tenendo giù la testa sposta il braccio giù dal banco Non capisco a questo punto se sono più rossa io oppure lui Va bene ragazzi tenete pronte le vostre poesie Altrimenti non ci rimarrà tempo se non cominciamo subito a leggerle Yuri sembra sollevato adesso Anch'io in realtà Le cose stavano diventando molto strane e molto in fretta Pronto Yuri? Capisco che non la stavi proprio aspettando questa cosa ma almeno provaci Grazie Matteo Ci proverò Yuri chiude il libro e lo spinge verso di me Sembra che ancora non si sia ripreso da quel momento imbarazzante di poco fa Mi domando se si sentirà abbastanza a suo agio da leggere con me ancora domani Mi sa che leggerò un po' stanotte eh Sì sarebbe meglio Sarà più divertente leggere insieme quando la storia comincerà a ingranare di più Sorrido sollevata Mi sembra ragionevole In tal caso cercherò di finire un paio di capitoli Va bene mi alzo Cerco di ricordarmi mentalmente a che punto sono arrivata col libro Anche se me lo dimenticherò appena possibile E infilo il libro dentro lo zaino A proposito Kiria l'hai scritta la tua poesia? Sì l'ho scritta l'ho scritta e la faccio leggere per primo a Yuri Yuri sembra quello con più esperienza perciò iniziamo da lui Posso fidarmi della sua opinione? Mentre legge vedo che i suoi occhi si stanno illuminando Eccezionale Cosa? Lo pensi davvero? Eh No scusami non volevo sembrare inquietante ma No no sono molto contenta che ti piaccia Beh in tal caso sono molto colpito Kiria Che tipo di esperienze hai fatto finora? Il tuo uso delle metafore e dell'immaginazione mi fa capire che hai scritto tanto finora È un complimento enorme da uno come te In realtà è la prima volta che scrivo una poesia Yuri mi guarda enigmatico prima di rileggere la poesia Interessante Yuri traccia la poesia con un dito In particolare cercando di capire tutte le parole con attenzione Il fatto è che in effetti ci sono alcune abitudini specifiche dei nuovi scrittori ecco Ci sono passato anch'io e quindi ormai so come evitarle Sai a volte gli scrittori nuovi tendono a fare uno stile più deliberato A volte scelgono degli argomenti differenti dallo stile Insomma il risultato finale è che alla fine sia lo stile che le espressività sono un po' indeboliti Vabbè Yuri è lì che chiacchiera ormai spiega le sue cose Se va più un insegnante che uno studente a questo punto Non che ci sia qualcosa di male ovviamente Ci sono molte tecniche che possono avere senso quando si scrive una poesia Però sai la verità è che nonostante abbia voluto cercare nella tua poesia degli erudati principiante In realtà non ce ne ho trovati No vabbè sarà soltanto la fortuna del principiante Per favore non essere dispiaciuto se domani non verrà fuori una cosa così buona Ma sì figurati Sei nuova quindi mi aspetto che tu sia qui per imparare cose nuove E poi ricevere un feedback da qualcuno come me può sempre aiutarti a influenzarti positivamente Invece Natsuko di solito è sempre un po' di parte In che senso? Ah no vabbè lo vedrai da sola voglio dire Ok che strano Mi domando che problemi abbia con Natsuko Allora posso leggere la tua poesia adesso? Ma certo Poi mi piacerebbe raccontarti i miei pensieri a riguardo Yuri sorride mentre mi dà la poesia È veramente bello quando sorride Sembra sempre così serio Mi domando se sei mai felice per qualcosa E qui c'è la poesia sul fatto che lui vuole assolutamente bere Perché ha una sete terribile Questa scrittura piccolissima E questa spiegazione già la conosciamo Adesso andiamo da Satori direi Ah 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 Kiria lo sai che ti voglio bene? Ma questa poesia fa schifo? Ma come? Voglio dire anch'io ti voglio bene ma che cacchio? No no va bene così voglio dire è la prima volta che scrivi A dire la verità sono felice che tu abbia almeno scritto qualche cosa Mi fa capire che stai prendendo tutto sul serio? Ma certo Magari non avevo capito ancora tutto ma ci sto provando eh Sì sì si vede Sai non avessi dovuto se non volevi farlo no? Voglio dire lo sappiamo entrambi perché hai deciso di unirti al club Occhiolino occhiolino Però alla fine ti sta impegnando quindi lo apprezzo Ok all'inizio mi sono iscritta perché volevo conoscere questi bei ragazzi Però voglio dire È anche merito di Satori se mi sono iscritta In fondo per lui questo club è importante E non ti preoccupare Manterò la parola data e cercherò di aiutarti a fare colpo su chiunque ti interessi Sarà il mio modo per ringraziarti Ok grazie Eh eh abbiamo un accordo comunque vuoi leggere la mia poesia adesso? Mmm non sono molto bravo in realtà Beh questo farò giudicare a me E qui c'è la poesia scritta un secondo prima di uscire di casa praticamente E anche questa spiegazione l'abbiamo già vista nella sua run Natsuko povero Natsuko non ti potrò considerare adesso Mmm senti lo stai prendendo sul serio questo club? Certo bene E quanto ti sei sforzata a scrivere questa poesia? Parecchio in realtà Ma ok ma non sei una scrittrice Lo capisco si capisce Ma non fa niente migliorerai Adesso ti farò notare quello che non va bene così potrai cominciare a lavorarci su Ok a ciascuno il suo immagino Ora comincio a capire le parole di Yuri a riguardo di Natsuko Comunque meglio che ti mostri la mia poesia adesso Lo so che ti piacerà un sacco Perciò cerca di contenerti E qui c'è la poesia sul fatto che gli animali possono avere delle capacità E poi ci sarà anche lo spiegone di Natsuko sul fatto che non è così semplice come si può pensare inizialmente E poi ma te ovviamente anche lui deve leggere la poesia Allora Kiria ti diverti? Sì mi divertirei di più se non ci fossi tu Ti è piaciuta la mia poesia? Kiria la tua carigrafia è terrificante È a malapena leggibile Per caso hai scritto tenendo la penna con i piedi? Ogni volta me lo dici ogni volta lo vorrei strozzare Ok lavorerò sulla mia carigrafia che cavolo Non devi essere così cattivo eh Beh senti la tua poesia non sarebbe neanche troppo male se non fosse per questa carigrafia che mi distrae Non mi aspettavo che tu avresti scritto qualcosa di così profondo Sono colpita Vabbè a parte la carigrafia voglio dire mi sono sforzata eh Non credi? Va bene va bene ma non essere troppo orgogliosa di te stessa adesso È una buona poesia Da quelle due tre cose che sono riuscito a decifrare somiglia a qualcosa che scriverebbe Yuri Anche lui piace scrivere cose piene di immagini e simbolismo Questo stile implica che i lettori debbano un po' arrangiarsi per trovare da soli il significato È una sfida scrivere qualcosa di veramente efficace Ci possono volere anni di pratica Cosa che immagino ormai Yuri abbia Ma tu? Tu sembri quasi avere un talento naturale Voglio dire in realtà io non credo di esserci neanche vagamente vicina a livello di Yuri eh Sì infatti hai un buon uso delle immagini ok ma ovviamente hai ancora tanto da imparare Ma non sei ancora una causa persa? Eh proverò anche delle cose nuove magari Mi ci vorrà un po' prima che mi senta a mio agio a scrivere le poesie Però ti assicuro che non sono una causa persa Buona sapersi Voglio vederti provare cose nuove Sarà il modo migliore per capire qual è lo stile che ti torna meglio Non cercare di forzarti a scrivere come gli altri vogliono che tu scriva Voglio dire Non è che tu debba preoccuparti di fare colpo su qualcuno Vero? Vero Comunque pronto a leggere la mia poesia adesso? Sì 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 Hai avuto una super epifania adesso stai guardando me Vabbè cioè me me non me Chi l'altra chi E adesso chiacchiere 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 Stanno litigando Yuri Natsuko e Stavolta mi spiace Yuri ma sto dalla sua parte Natsu hai ragione la tua poesia mi è piaciuta Listo? Un attimo Però questa non è una scusa per essere così cattivo Perché litigare con qualcuno soltanto perché avete opinioni diverse? Ma perché è colpa sua? Non prende mai le mie poesie sul serio Perché devo essere io a gestire questa cosa? Mi guardo intorno per vedere Satori e Matteo che sono lì fermi che mi fissano Chiaramente non vogliono essere d'aiuto Ok mi volto verso Yuri Yuri Sei uno scrittore pieno di talento Non è un segreto che io sia stata molto colpita da quello che hai scritto Però il punto è questo Non importa quanto sia semplice o rifinito lo stile di qualcuno L'importante è infilarci dentro dei sentimenti e renderlo personale È per quello che Natsu si è sentito provocato quando hai detto che la sua poesia era carina Ah ho capito Non me ne ero accorto mi dispiace E Natsu la prossima volta Cerca di mantenere le tue critiche costruttive basate alla letteratura Non mettete a dire che la gente si infila fazzoletti nel pacco per farlo sembrare più grande Non c'è bisogno di questi insulti personali Ma mi stai prendendo in giro È lui il primo che si è messo ad insultare Beh Natsuko in realtà ha un po' ragione ce l'ha ma Guardo Yuri Ah davvero eh Mi dispiace Natsuko Per favore chiedo perdono Beh dai alla fine non credo che nessuno di voi due volesse dire cose cattive all'altro Yuri ha chiesto scusa Non pensi che dovresti fare altrettanto Natsu Natsuko lì che Va bene va bene scusa Mi dispiace ok Natsuko torna a sedere e incrocia le braccia sconfitto E io guardo laggiù quegli altri due imbecilli che non mi hanno aiutato Yuri va al suo banco e si siede con il mento appoggiato così alla mano E io mi avvicino a lui Tutto bene ragazzone? Eh sono così in imbarazzo Non ci posso credere di essermi comportato in questo modo Ormai penserai che sia semplicemente un tipo pretenzioso Ma certo che no Poteva andare peggio L'hai gestita meglio di chiunque altro? No avrei potuto fare di meglio Ma dai stai tranquillo Hai chiesto scusa È tanto no? Fa capire molto del tuo carattere Sono colpita Dici sul serio? Ma certo Tu mi credi vero? Sì ti credo Grazie Kiria Sono molto felice che tu faccia parte del club Anch'io E comunque quella cosa che ha detto Natsuko Sul tuo voglio dire No non è vero che mi metto i fazzoletti nel pacco per farlo sembrare più grande E niente gli occhi di Kiria vanno in basso perché ovviamente con un discorso del genere Ehm Scusa Ehm Non so cosa altro dire Non dire una cosa stupida a Kiria Non dire una cosa stupida Sì sì lo capisco che è tutto bene Perché riesco a farmi scappare queste cavolate dalla bocca? Ehm Satori è sorpreso Perché che ho fatto? Niente E' quello il punto Hai visto che quei due stavano litigando e non hai fatto niente? Ma che razza di vicepresidente sei? Anche Matteo stessa cosa Anche tu Capitane in utilità Dove cavolo eravate voi due? In che senso? Mi avete sentito Quei due stavano litigando come matti e voi due non avete fatto nulla Doveste essere i leader Doveste cercare di sistemarle queste situazioni quando si presentano Non lasciarlo fare a me che sono l'ultima arrivata Satori è chiaramente un imbarazzo E Matteo mi guarda Alla fine vedo che ha capito di aver torto Ehm Sì stavolta mi sa che un po' c'hai ragione Forse avrei dovuto interagire Ehm Chiedo scusa Anch'io avrei dovuto Io dovevo anche imparare la poesia ma voi due dovete imparare un po' di leadership Ok? Ok Sì non ti preoccupare Dora in poi prenderò il controllo della situazione Mi sa che devo esserti grata per come ho gestito bene la cosa Ok Ok È il momento di andarcene a casa E ricordati se ti piace Yuri Potessi scrivere delle poesie che siano grosse Espressive Pompose Piene di cose oscure Questo lo renderebbe felice Sorrido Ma la poesia per Yuri la scriviamo la prossima volta Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento Mi raccomando Fatemi sapere per ora Quale di queste run è quella che vi sta piacendo di più Quella con Yuri Quella con Natsuko Quella con Satori Il problema è che dopo tutta questa parte allegra In cui conosciamo meglio i ragazzi Lo sappiamo tutti cosa succederà Vero? Non so se ho tanta voglia di finire questa run Ma lo farò Ciao ciao E mi raccomando Attenzione alle moniche Ai Matteo A tutto quanto E non scrivete con i piedi Altrimenti lui se ne accorge Ciao Ciao